Da più di un mese vivono in quest'auto Giuseppe, 33 anni, e Rosanna, di anni 23. Entrambi sono di San Ferdinando di Puglia, con loro quattro bimbi, di cui la più piccola, sordo-muta, di anni quattro. In precedenza risiedevano a Troia, in provincia di Foggia, in una casa che avevano occupato. Tornati a casa, a San Ferdinando, da settimane chiedono aiuto all'amministrazione comunale. Oggi come vivete? Viviamo nella nostra macchina, le condizioni ve le lasciamo immaginare a voi. Come vi nutrite? Fino adesso cerchiamo soldi in prestito, prendiamo panini, brioche, senza un lavoro, sì, questa è la base principale di tutto. Da Palazzo di Città fanno sapere di non essere fermi e di essersi attivati, al fine di offrire loro un sostegno, ma soprattutto un tetto. C'è stata qualche risposta? Sinceramente, proprio stamattina mi hanno detto vi abbiamo trovato la casa, aspettiamo quest'altra giornata, vediamo.